Una tecnica mista, non solo a fresco, è una delle rivelazioni più importanti scoperte grazie al restauro in corso dell'opera simbolo di Sansepolcro, la resurrezione di Piero della Francesca. I lavori procedono da qualche mese, non sono ancora a metà e dureranno almeno un altro anno ancora. Dietro c'è la mano esperta dei restauratori dell'opificio delle pietre dure e della soprintendenza. Questa è una tecnica molto complessa, una tecnica mista, noi diciamo, perché Piero fa uso di tutte le tecniche impiegabili su un muro alla sua epoca. Quindi una prima impostazione ad affresco, noi pensiamo quasi esclusivamente per gli incarnati, poi tutto il resto probabilmente è a secco. Stiamo appunto facendo le indagini scientifiche proprio in questo momento. L'opera, sopravvissuta ai bombardamenti delle guerre, rischiava di essere danneggiata dal tempo e non solo. Numerose le crepe riscontrate sulla sua superficie e i danni apportati anche da chi ci aveva messo le mani nel passato. L'opera, perché è molto attaccabile, lo si evince anche dalle condizioni in cui si trova. Perché altrimenti un'opera che non è mai stata all'esterno, ma è stata sempre all'interno di un fabbricato, se non fosse stata così dal punto di vista delle tecniche, così delicata e così debole, non sarebbe in queste condizioni. Chi ci ha preceduto probabilmente non ha capito questo. I danni sono molto, molto ingenti. Riparabili sono abbastanza, si possono riparare abbastanza. Bisogna accontentarci che questa vecchia signora recuperi un po', però non ce la faremo probabilmente a recuperare tutto, tutto, tutto. Intanto proseguono anche i lavori di consolidamento e restauro del Museo Civico di Sansepolcro, dove l'opera è appunto custodita. Un museo che dovrà diventare antisismico, così come da richiesta ufficiale, avanzata al Ministero, da parte dell'architetto Anna Di Bene, responsabile della nuova soprintendenza che riunisce le province di Arezzo, Siena e Grosseto.